amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive oggi facciamo un breve filmato per fare un po di chiarezza sul discorso filtri aria quindi siamo nell'ambito delle elaborazioni abbiamo parlato tante volte di motore nello specifico motore tutte le varie componenti sulle quali noi interveniamo una delle quali è appunto l'aspirazione e nello specifico il filtro aria filtri aria ce ne sono in commercio veramente tantissimi di tutte le fogge di tutte le conformazioni al di là delle marche il materiale e quant'altro io volevo proprio fare un excursus su quelle che sono le macro aree dei filtri dando appunto delle indicazioni sui pro sui conto in maniera tale da come dire istruire quelli che sono meno avvezzi a questo tipo di settore altri cioè per quelli più esperti chiaramente parlare di aspirazione dirette kit di aspirazione specifici filtri a pannello sono delle cose banali però non è per tutti che non tutti hanno questo tipo di conoscenza quindi parlando di filtri aria in sostanza noi andiamo a toccare quello che è la conformazione del diciamo originale che avrà una scatola filtro all'interno della quale ci sarà una cartuccia filtro poi può essere una cartuccia piatta una cartuccia cilindrica comunque sempre una cartuccia solitamente in cartone ma adesso ultimamente hanno fatto sulle macchine giapponesi alcuni filtri a bagno d'olio però diciamo generalmente sono dei filtri che vengono utilizzati non si possono fra virgolette riciclare nel senso mantenere perché comunque si rovinerebbero quant'altro dopo un certo chilometraggio vanno presi e sostituiti il fatto di mettere un filtro aria più permeabile diciamo che la differenza sostanzialmente il materiale sono tre strati in cotone trattenuti da una maglia metallica che appunto garantisce una permeabilità e un passaggio d'aria migliore rispetto a quello in cotone originale questa è la prima cosa per cui diciamo che non è che un filtro aria crei un incremento esponenziale della potenza però fa respirare meglio il motore alta caratteristica da non sottovalutare che qualunque filtro aria che sia dopo entriamo nelle varie tipologie qualunque filtro aria se uno ha l'accortezza può essere mantenuto pulito e riportato a nuovo quindi in sostanza se uno ha un po' di manualità si ricorda che a cadenza di 8-10 mila chilometri deve dare un'occhiata alla scatola filtro lo tira fuori lo pulisce con i suoi prodotti il filtro aria praticamente dura tutta la vita della macchina costerà un pochino di più rispetto al ricambio originale però poi alla fine economicamente nel totale spende meno entrando nelle varie categorie dividiamole in due macro aree i classici filtri chiamiamoli a pannello questo è un filtro a pannello per adesso questo qua è piatto ma potrebbe essere un filtro alfa può essere un filtro cilindrico comunque un filtro esattamente delle stesse dimensioni del filtro originale con una cornice in gomma morbida come dicevo 3 strati in cotone maglia metallica si sfila il filtro originale lo si sostituisce con questa cartuccia diversa si richiude il tutto e la macchina funziona perfettamente vi ricordate come dicevo prima ogni 8-10 mila chilometri di dargli una pulita va pulito con acqua una volta asciutto con il suo olio specifico per cui non andatelo a lavare con mette di su diciamo delle delle degli oli impropri l'importante è una manutenzione c'è l'unico punto da stare un attimino attenti è sulla manutenzione quindi un detergente quello potete usare anche un detergente per i piatti non è un quello la differenza quello che fa la differenza è l'olio spray specifico per i filtri l'unico segreto che vi posso dare è stare attenti a non eccedere con l'olio che uno va a mettere e in linea di principio il suggerimento che noi diamo è oliare la parte esterna cioè questa è la parte esterna che prende aria dall'esterno qua c'è la scatola filtro qua c'è l'aspirazione la parte sotto uno può anche non oliarla perché in questa maniera con il caldo del motore non si staccano quelle goccioline di olio che poi magari vanno a finire sul filo caldo del flussomato del debimetro e possono creare dei problemi quindi se voi l'oliate nella parte esterna lasciate pulita la parte sotto problemi non ne avrete mai con questo sistema il rapporto stecchiometrico cioè la calibrazione fra aria e benzina diciamo viene gestita dalla centralina elettronica il motore respira meglio problemi zero rumore zero l'altra faccia della medaglia è entrare in un settore cosiddetto di filtri ad aspirazione diretta e anche qua si diciamo si 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 aprono due mondi i filtri ad aspirazione diretta generici che possono essere un filtro come questo tanto per intenderci si toglie la scatola filtro ci si collega direttamente con un manicotto sul sull'ingresso dell'aspirazione e si monta questo tipo di filtro noi generalmente non siamo molto siamo un po contrario a questo genere di intervento perché un filtro generico salvo rarissimi casi o salvo diciamo avere una fortuna incredibile difficilmente calibra la giusta quantità di aria che è stata calibrata viceversa con la cubatura della scatola filtro originale quindi questo è molto importante va bene su motori un po più anzianotti su macchine piene di elettronica e cose di questo genere montare un'aspirazione diretta noi personalmente lo sconsigliamo li vendiamo soprattutto per macchine sono vecchia peugeot 106 tanto per intenderci un filtro aspirazione diretta può andare bene su una audi a3 di ultima generazione probabilmente non è proprio la soluzione ideale comunque anche in questo caso stesso discorso cotone con la maglia metallica e lo si pulisce esattamente come il filtro a pannello poi sempre parlando di aspirazioni dirette entriamo nell'ambito sempre a livello generico di kit di aspirazione questo è uno ce l'avevo in magazzino anche questi ne utilizziamo pochi cioè un filtro che è uno step superiore a quello diciamo completamente aperto che ha sempre un filtro aspirazione diretta ma all'interno di un contenitore che ne trattiene una parte di pressione e soprattutto lo protegge dal diciamo dal calore del motore però anche in questo caso la problematica che quei filtri diciamo generici tipo i cdi e le idea della della dmc tanto per citarne alcuni vanno bene si adattano non sono specifici per ogni singolo motore quindi vanno adattati e anche lì ci possono essere delle come dire delle 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 prodotti con delle problematiche però non si garantirà mai la giusta quantità di aria che necessita quel tipo di motore perché sono sempre diciamo delle cose generiche che vanno ad adattarsi questo qui funziona un pochino meglio dell'aspirazione diretta perché si sporca meno mantiene un pochino di più la pressione però sempre generico è quello che noi invece suggeriamo ma anche qua diciamo che dipende poi anche dai costi è nel momento in cui uno vuole saltare dal classico filtro pannello a un'aspirazione specifica di scegliere proprio un aspirazione cioè un kit di aspirazione studiato in maniera specifica per quel motore ad esempio qua abbiamo un kit specifico per una toyota selica quindi con il suo tubo di di aspirazione con le sue curve dimensionate bene col suo diametro e soprattutto con un filtro che è stato dimensionato in funzione della quantità di aria richiesta da quel motore quindi in questo caso è sì un'aspirazione diretta però a livello funzionale rispetto al fatto di mettere un filtro a casaccio di dimensioni assolutamente buttate a caso su un tubo che poi chiaramente anche in questo caso non è quello corretto se uno toglie tutta la scatola filtro e mette un condotto di aspirazione studiato da una casa che l'ha testato su quella macchina sicuramente si ottengono dei risultati decisamente migliori il top in assoluto e ogni tanto ci capita sono filtri come questi questo è la eventuri che è una ditta molto particolare che fa dei prodotti magnifici diciamo subito che sono dei pezzi dei dei gioielli c'è un key di aspirazione questo è solo la parte del filtro questo andrà montato sull'ultima versione della rs3 di un nostro cliente il filtro è appena stato commercializzato diciamo dalla dalla eventuri questo come si vede è appunto la parte filtrante che sta all'interno di un contenitore in vero carbonio quindi il carbonio è termoisolante quindi qui che cosa abbiamo e poi c'è tutta la parte che adesso non vi faccio vedere ma comunque c'è tutta la parte di staff e tubazioni cioè a livello estetico il vano motore diventa una cosa incredibile a livello di studio è stato studiato perché hanno messo questo tipo di filtro con questa cubatura perché ovviamente hanno fatto delle prove tecniche e hanno visto che per quel motore serviva questo determinato di tipo di cubatura ne fosse servito un'altra avrebbero fatto per dire adesso questo qui va sulla sulla rs3 se io ne monto uno che va su una bmw m3 m5 al di là che ovviamente il motore è diverso ma anche proprio la dimensione del filtro sarà completamente diversa perché un 10 cilindri avrà bisogno di molto più aria che non un 4 cilindri a parità di che un abbia 500 cavalli l'abbia l'altra ne abbia 450 quindi è proprio come dire siccome sono filtro anche molto costosi un kit come questo uno spende difficilmente meno di 1500 1600 euro che sono veramente tanti però paga la qualità del prodotto e soprattutto paga lo studio cioè quello che è uno studio fatto da una ditta che si è messa lì con quella macchina ha provato tutti i vari componenti ha determinato che la conformazione del kit di aspirazione ottimale per quella macchina è questo quindi è ovvio che una parte del costo la si paga non solo per la qualità ma proprio anche per lo studio tecnico cosa che su un filtro come questo non c'è nessuno studio e questo qui è molto più semplice perché prendono la coppia le dimensioni base per altezza o lunghezza per larghezza del filtro e lo riproducono ed è molto più semplice qua è un po diverso come dire rifare il condotto di aspirazione o rifare un collettore di scarico apparentemente sembra una cosa semplice ma lo stesso diametro dei tubi lo stesso incrocio dei tubi cambia radicalmente quello che è il risultato finale quindi ripeto come ho detto tante volte chi meno spende più spende se volete diciamo una cosa semplice spendendo 50 60 70 euro prendete questo genere di prodotto se volete qualche cosa dove guadagnate ad esempio filtri come questi soprattutto la e venturi e anche i filtri della kn quando ci vengono consegnati ci viene consegnata anche una scheda tecnica che ci dice con questo kit di aspirazione la macchina guadagna x cavalli quindi in questo caso sulla macchina che abbiamo appunto citato prima l'incremento è di 18,5 cavalli solo come aspirazione cosa che con un filtrino di questo genere che ragazza che uno guadagna un cavallo adesso stiamo chiaramente estremizzando qui sono due cose diciamo nel momento in cui uno sceglie indipendentemente come ripeto da un discorso economico ballano più di quasi 1500 euro tra questo sistema e questo però bisogna capire che il risultato ti porta questo sistema e che il risultato ti porta questo sistema in ogni caso tutti questi anche questo chiaramente poi lo si smonta va mantenuto pulito con la dovuta accortezza il filtro è eterno assolutamente non ha nessun tipo di deterioramento a meno che uno non rompa proprio la 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 parte di di filtraggio la macchina rende decisamente in maniera diversa ed è un bel complemento sempre all'interno di quei determinati stage come diciamo noi quindi uno stage 1 diciamo prevedere sia il classico filtro a pannello che un'aspirazione dedicata come questa sempre stage 1 rimane io direi di aver fatto sufficientemente chiarezza sul discorso filtri qualunque informazione domanda ci potete mandare sul video ci potete fare delle domande noi rispondiamo sempre l'importante è l'educazione l'importante avere rispetto di quelli che lavorano se avete delle domande da chiedere direttamente mi chiamate in ufficio 027383975 io sono sempre qua dal lunedì e venerdì andate a consultarvi il sito www.nanegiri.it soprattutto nell'ambito archivi elaborazioni dove trovate più di 3500 schede vettura quindi troverete un sacco di macchine con vari kit di aspirazione filtri a pannello quello che volete troverete anche la sezione dedicata nell'ambito motori soprattutto cliccate sulla campanella per quanto riguarda il discorso youtube e iscrivetevi al nostro video in maniera tale da rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo per il momento è tutto alla prossima ciao ciao ciao